buonasera a tutti benvenuti al mio consueto appuntamento quindicinale vorrei tornare un po sull'argomento ambiente disastri ambientali eccetera l'ho già trattato altre volte ma vorrei entrare più approfonditamente nel merito di questo tema perché perché si sentono i grandi uomini parlare del problema sarebbe l'uomo che in generale l'uomo che non sta attento alla natura mi riferisco soprattutto a una citazione del papa del papa attuale che sul clima che cambia dice chi lo nega quindi chi nega il cambiamento climatico è uno stupido ma è l'uomo uno stupido è il potente uno stupido o è il sistema che è lui il meccanismo che è lui il bandolo della matassa da dove partire per poi eliminare questo problema dell'inquinamento ma del non rapporto corretto tra uomo e natura questo lo possiamo vedere e poi lo accenderò meglio perché quindi faccio un salto 150 anni fa proprio l'11 settembre del 1867 usciva l'opera di Carlo Marx il capitale è passato un secolo e mezzo dalla sua pubblicazione e questo libro questo questo tomo che poi Marx dice dice io non sono un filosofo il mio obiettivo di criticare questo sistema di produzione e vedere all'interno di questo sistema se ci sono già i semi prodromi per un altro sistema diverso non sistema di lavoro sociale e non privatistico e questo libro in un secolo e mezzo dopo la sua pubblicazione esso è annoverato tra i libri più tradotti venduti e discussi nella storia di umanità per quanto vogliono comprendere cosa sia davvero il capitalismo e anche perché i lavoratori devono lottare per una forma superiore di società il cui principio fondamentale sia lo sviluppo pieno e libero di ogni individuo il capitale è oggi più che mai una lettura semplicemente imprenscindibile questo libro poi questi libri che poi sono stati letti e tentato da tante persone ma un conto è leggere un conto è capirli ma chi anche li ha capiti molte volte o anche hanno anche tradito i fondamenti di questo perché magari nell'immediato trovano più utile essere foraggiati da qualcun altro piuttosto di stare dalla parte dei più poveri e tentare di far sì che il proletariato lasciatemi dire questo termine perché siamo proletari chi lavora e vive con un salario è un proletario marse era molto esigente sul capitale diceva che non si sarebbe mai risparmiato e non si è mai risparmiato perché fosse più chiaro possibile il capitale non tanto per i borghesi che lo sanno già leggere lo maneggiano tutti i giorni ma gli ultimi quelli che creano la ricchezza effettiva e poi casomai se ne ho tempo ne parliamo allora tornando al nostro tema la natura allora 150 anni fa già marx e quindi sostanzialmente non è uno da dire che non so influenzato dalle ultime idee dagli eventi dai cambiamenti climatici eccetera parlava del rapporto uomo e natura perché lui parte da un concetto fondamentale che l'uomo è natura fa parte della natura appartiene l'uomo alla natura il fatto che questo sistema di produzione è basato sul valore cioè su una parte di plus lavoro di lavoro in più che viene lasciato a chi compra la tua forza lavoro la natura è semplicemente un sistema da sfruttare non è la natura attraverso i propri salariati no è un sistema da sfruttare leggerò forse forse sarà un po pesante ma leggerò alcuni alcuni fondamenti dei tratti dai suoi scritti ma vi ripeto 150 anni fa quindi non danno adito a a indicazioni di sorta che sono stati influenzati eccetera partirò con la critica al programma di gotha che poi è anche un fondamento che cosa succedeva a gotha il partito social democratico tedesco nel 1861 chiedeva a chiedeva al partito social democratico tedesco aveva chiesto a marx un parere su su o meno aderire a questo programma il programma era così fare un'alleanza con in quegli anni era andava di moda un certo la sal la sal era un pubblicista piccolo borghese tedesco che prese parte poi il movimento democratico della provincia del reno all'inizio degli anni 60 si associò al movimento operaio e divenne uno dei fondatori di l'unione generale degli operai tedeschi da notare anche che questo e marx lo dice già nella prefazione della prima edizione del capitale lo potete trovare che si era appropriato di alcune studi di marx senza mai citarlo ma soprattutto stravolgendo quello che lui diceva allora entriamo entriamo nel merito allora le prime righe del di questo programma che vi era criticato ferocemente da carlo marx il prime righe dicevano che il lavoro è fonte di ogni ricchezza e di ogni civiltà marx si scaglia contro questo ma fortemente che dice il lavoro non è la fonte di ogni ricchezza attenzione la natura è la fonte dei valori d'uso valori d'uso allora la ricchezza intesa nella società borghese è data dal denaro dal valore di scambio e il valore di scambio di qualsiasi merce è dato dal valore d'uso che hanno queste merci cioè qualcuno le deve gli deve servire a deve aver bisogno di un uso altrimenti non verrebbero mai vendute se una merce non ha nessun valore d'uso nessuno la compra per cui non avrebbe non ha nemmeno un valore di scambio quindi dice è la natura il valore di ogni è la fonte dei valori d'uso e in questi consiste la ricchezza effettiva altrettanto quanto il lavoro che esso stesso è soltanto la manifestazione di una forza naturale la forza al lavoro umana quindi è la natura la vera ricchezza il vero fonte dei valori d'uso se noi ci facciamo proprio questa questo modo di pensare abbiamo già sbarazzato tutti dalla scena politica e sociale che vediamo oggi dei dei tanti tromboni che oggi parlano di salvare la natura si però investendo un sacco di soldi ci può fare profitto con i parchi si può limitare i danni della natura costruendo quella diga facendo quell'altro e via dicendo in realtà dice marx che per i borghesi hanno i loro buoni motivi per attribuire al lavoro una forza creatrice sopranaturale perché dalle condizioni naturali del lavoro ne consegue quell'uomo il quale non ha altra proprietà all'infuori della sua forza lavoro deve essere in tutte le condizioni di società e civiltà lo schiavo di quegli uomini che si sono resi proprietari delle condizioni materiali del lavoro egli può lavorare solo con il loro permesso e quindi può vivere solo con il loro permesso anche queste sono pietre miliari allora per il borghese si è il lavoro la vera ricchezza perché dal lavoro delle persone che non hanno più i mezzi di produzione e vi ricordo fondamentalmente i mezzi di produzione è la terra e gli opifici e tutti quei mezzi che ci permettono di lavorare non sono più alla possibilità di essere acquisiti da tutti perché vediamo oggi c'è la proprietà privata è su tutto anche sull'acqua potabile o sull'arenile facciamo un esempio l'arenile qui a Jesolo che è stato distrutto da varie mareggiate quest'inverno gli albergatori che quest'anno poi hanno avuto un boom di presenze sono andati a battere cassa alla regione perché l'arenile gli fosse reso disponibile per la stagione estiva ma la regione ha messo dei soldi e guarda caso quei soldi sono di tutti ma diciamo di tutti ma l'80% delle entrate sono date dal reddito dal lavoro dipendente quindi l'80% delle entrate è nostro ebbene noi per andare poi in spiaggia non possiamo neanche andarci perché è tutto privato allora paghiamo per mettere a posto l'arenile quindi dovrebbe essere anche cosa mia in realtà non è mia ma è di proprietà degli altri vi faccio un altro esempio questo è la natura ho fatto un esempio della natura vi faccio un esempio della produzione di alluminio bene la produzione di alluminio è una mangiatrice di energia elettrica ebbene lo Stato dà a questa compagnia poi che fra l'altro è americana dà de agevolazioni per i costi dell'energia elettrica e noi li troviamo anche sulla bolletta dell'energia elettrica ebbene io pago perché la fabbrica produca alluminio e quando sono in fabbrica mi sento anche maltrattato e mi vengono levati anche i diritti come lavoratore e anche la dignità ma come cavolo se pago io perché la fabbrica stia in piedi quindi come minimo la mia dignità dovrebbe essere salvaguardata e dovrei essere una specie di padrone anche io e quindi decidere anche io no tu sei l'ultimo arrivato no l'ultimo sei l'ultimo gradino della scala sociale per cui non vali assolutamente niente questo allora è la natura la fonte di ogni la ricchezza di valori d'uso dobbiamo tenerla chiara e presente questa questa cosa ma la ricchezza sociale la ricchezza prodotta dalla in generale dalla società da dove viene questa da dove viene questa ricchezza questa ricchezza viene dal lavoro Marx lo chiama operaio ma dal lavoro vendibile dal lavoro dove si può creare profitto il plus valore, valore in più creato valore in più che non è semplicemente un aumento volgarmente noi non abbiamo chiaro in testa che cos'è questo plus valore pensiamo che basti andare al mercato e vendere questo prodotto a un prezzo superiore di quanto io l'ho acquistato invece no Marx riprende le indicazioni dell'economia classica da Smith e Riccardo e dice come mai due merci si scambiano fra di loro perché fondamentalmente poi alla fine hanno la stessa quantità di lavoro al proprio interno e quindi vengono scambiate proprio per questo sono valori d'uso completamente diversi però c'è qualcosa che li accomuna il lavoro di qualcuno che li ha creati ecco questo valore questo tempo che è servito per creare questo valore d'uso è la fonte per cui poi queste merci si possano scambiare fra di loro in realtà il plus lavoro è il tempo in più che il lavoratore dà a chi ha acquistato la capacità lavorativa cioè spiego se il salario è equivalente a tre ore di lavoro perché il lavoratore possa rigenerare la propria forza al lavoro quindi la sua e anche dei familiari però lo faccio lavorare dieci ore o otto ore quindi quattro non tre così andiamo meglio quattro ore sarebbero sufficienti di tempo per produrre la quantità di prodotti che servono per rigenerare la forza al lavoro dell'operaio e della propria famiglia io lo faccio lavorare otto ore per cui quelle quattro ore di tempo immagazzinate nei prodotti che lui in questi quattro ore fa sono roba mia cioè del capitale e sul mercato la merce viene effettivamente venduta per il suo valore il valore incorporato di tempo allora se prima del sistema di produzione capitalistica nel sistema di produzione feudale poteva essere visibile ad occhi nudi a dove scaturiva la ricchezza perché scaturiva dalla natura perché da un chicco di grano si potevano raccogliere 50 o 100 chicchi di grano quindi tutto veniva del lavoro dell'agricoltura perché c'era qualcuno che seminava poi raccoglieva e il feudatario poi si prendeva la parte più ricca che gli serviva per poi mantenere e questa veniva distribuita nell'esercito che manteneva nelle persone di amministrazione amministrative eccetera quindi il problema è da dove viene fuori cioè tutta questa ricchezza in più viene fuori proprio dal mondo del lavoro nel mondo del lavoro che crea attraverso il plus lavoro forma un plus valore che questo plus valore se lo dividano le categorie dei capitalisti dei rentier dei banchieri ma soprattutto della rendita fondiaria che è la base poi dice Marx della base i proprietari fondiari che da lì parte il sistema di produzione capitalistica ecco quindi la ricchezza di questa società la ricchezza della società capitalistica nasce da lì dal plus lavoro che qualcuno crea basta porsi un po' la domanda i politici che parlano tutto il giorno dove prendono le scarpe che indossano il vestito che indossano il mangiare che mangiano qualcuno glielo deve pur creare l'auto che guidano chi gliela crea lo dicono ma me la compro con quello che ricavo con quello che mi pagano per essere parlamentare cioè i 13 mila euro al mese ma i quelli di 13 mila euro non sono nient'altro che plus che plus valore che viene stornato a loro qualcuno ha lavorato per loro qualcuno ha creato quei valori d'uso che lui adopera così per tutti basta pensare che in Italia diretti nella produzione sono quasi 6 milioni di persone bene 6 milioni di persone creano prodotti per 60 milioni di persone che siamo noi ma cosa dice soprattutto Marx e lui vede nella socializzazione in aumento della produttività un aumento sociale un benessere sociale non butta via queste cose anzi lui dice che questo aiuta a fare un salto superiore aiuta a fare un salto in una società diversa dove la socializzazione aiuterà a creare eliminando quindi il valore di scambio e facendo i conti sul valore d'uso eliminerà delle categorie superflue che vivono sul lavoro degli altri e il lavoro va distribuito fra tutta la società fra tutti i componenti della società per cui tutti noi dovremo lavorare quel tanto e sarà il tempo di lavoro il metro giusto per andare a misurare quanto tempo di lavoro c'è bisogno per ogni singolo per avere per accedere ai prodotti creati ma questo casomai ne parleremo una volta successiva io volevo leggervi che è scritto dai compagni un film dell'horror del capitalismo è uno scritto molto interessante molto scorrevole molto bella e dice anno 2017 giovani condannati dal sistema a lavoro precari sottopagati sfruttati vecchi obbligati a lavorare oltre i limiti fisici esausti logorati e sfruttati eppure poco si muove sul piano dell'opposizione sociale e politica contro la degradazione progressiva riservata dal sistema ai propri schiavi anno 2017 power save schiavo del potere la condizione in cui vive la maggioranza degli umani schiava di un potere incarnato nel monopolio dei mezzi di produzione da parte di una classe sociale parassita una classe che pur di preservare il proprio privilegio condanna il resto degli uomini alla degradazione capitalismo 2017 un film horror fatto di catastrofi ambientali e di catastrofi sociali dove la crescita della disoccupazione e quindi della miseria condanna miliardi di esseri umani a forme di esistenza ai limiti della sopravvivenza biologica e dell'abbruttimento un sistema tuttavia funzionale ad una minoranza di privilegiati che grazie al monopolio esclusivo dei mezzi di produzione e di comunicazione e degli apparati statali trae un effimero vantaggio dal degrado del resto della specie umana in una gara spietata di parassitismo fra apparati di potenza statale e brughesi continuamente lanciati nella corsa al controllo di risorse energetiche e masse proletarie da schiavizzare il capitalismo sintetizza nella sua esistenza l'antivita allo stato puro la demenza della produzione finalizzata il profitto ad ogni costo una industria che produce montagne di merci inutili mentre una parte della specie umana crepa di fame e di malattie minacciando infine lo stesso ecosistema fondamentale alla vita alcune persone dotate di buonsenso riconoscono la veridicità di queste considerazioni tuttavia la quotidianità delle moltitudini è vissuta nella prigione della preoccupazione immediata soprattutto come sbarcare il lunario e di conseguenza molto spesso prevale l'incapacità di concepire la rimozione della causa di fondo di queste preoccupazioni il capitalismo e la difficoltà di lottare per il suo superamento in una recente intervista un lavoratore descrive e le sue condizioni di vita ovviamente comune a centinaia di milioni di proletari una condizione fatta di distrettezze e privazioni estese fino ai limiti della pura sopravvivenza biologica il reddito conseguito consente appena la copertura delle spese essenziali costringendo questo lavoratore e altri moltitudini sventurati a mangiare cibo scadente rinunciare alle cure mediche privarsi del riscaldamento vivere con meno del minimo indispensabile infine questa condizione di miseria diffusa semplicemente riduce il tempo medio di vita causando la morte anticipata di centinaia di milioni di esseri umani i nostri associati alle condizioni di povertà proletarizzazione e miseria crescente incalzanti cercano di risparmiare privandosi di servizi o di mezzi precedentemente disponibili l'autovettura le vacanze i viaggi una cena in pizzeria abiti e scarpe nuovi teatro e cinema servizi vari il cibo viene comprato dove costa di meno oppure si approfitta delle offerte di sconto sugli articoli con una scadenza ravvicinata mentre una parte della società fa sfoggio di ricchezza e conduce osceni stili di vita edonistici cresce la sovra popolazione di serva e la miseria di massa l'ottundimento collettivo su queste dinamiche socio-economiche è ottenuto con lo sciocchezzaio quotidiano del circo massmediatico un variegato catalogo di armi di distrazione di massa che non ha il caso ora di elencare le attuali paghe da fame di molti giovani lavoratori apprendisti steggisti lavoratori e progetto implicano semplicemente la conseguenza di una vita in cui questi sventurati vanno a lavorare mangiano il cibo scadente dormono infine recuperano con fatica le energie per tornare a farsi sfruttare alcuna un altro giorno nelle galerie aziendali del capitale il reddito percepito non consente loro di spendere nulla per eventuali hobby cultura e svaghi il lavoratore alla fine dell'intervista afferma che nelle condizioni di miseria si prova la sensazione di essere come uno stato vegetativo percettore di un reddito in grado astento di farsi mangiare e pagare qualche spesa farci mangiare e pagare qualche spesa essenziale una condizione da film horror cui molti si abituano come ci si può abituare a un quotidiano un rapido aumento del capitale è parimenti un rapido aumento del profitto il profitto può crescere rapidamente solo se il prezzo del lavoro il salario relativo diminuisce con la stessa rispedità ecco era quello che dicevo prima quindi il salario quindi l'aumento di plus valore sottratto alla classe operaia permette a quei signori di ostentare un reddito e una vita da Nababi qui mi fermo perché ormai il tempo è scaduto ci ritroviamo fra 15 giorni e proseguiamo il nostro ragionamento il nostro discorso ciao a tutti a